Maso Ceccarelli, anzitutto un giudizio sulla prestazione del Catani che nel primo tempo è stata veramente importante. Sì, siamo partiti forti, penso che si sia visto con le cose che avevamo preparato durante la settimana e questa è la strada che dobbiamo continuare a percorrere perché se vogliamo cercare di fare qualcosa di importante dobbiamo lottare e correre su ogni pallone come abbiamo fatto e mettere le idee che proviamo durante l'allenamento. Il pubblico ha apprezzato la qualità delle tue giocate e la tua inventiva? Sì, sono contento, sono contentissimo e per me, ripeto, a 29 anni è un orgoglio giocare con questa maglia in una piazza del genere. Sono carico, spero di poter fare sempre meglio e spero che pian piano si riapra lo stadio per intero. È stata per certi versi sorprendente l'intesa con Cipo, c'è un ragazzo di 21 anni che si è inserito benissimo nel calcio italiano e in questa squadra. Sì, sì, è un ragazzo che sicuramente ci ha delle qualità, deve lavorare come tutti noi comunque. Però io per esempio ieri avevo fatto una scommessa con lui e gli avevo detto ti faccio un assist e domani segni e mi offri una cena. E ho detto è andata bene. Ha portato bene, quindi magari la ripetiamo la prossima settimana. Tuposo è stato un Catania convincente, abbiamo detto, ma cos'è cambiato rispetto a Monopoli? La partita di Monopoli è stata comunque sicuramente una partita negativa. Partire sotto i due gol dopo un quarto d'ora influisce dopo tanto perché ti ritrovi in trasferta sotto i due gol e diventa più complicato. Cambiato sicuramente l'atteggiamento dei primi minuti perché qua noi siamo guardati in faccia e dobbiamo andare forte, per forza, dal primo minuto se vogliamo vincere le partite. L'unica strada è questa. Nel secondo tempo chiaramente i ritmi della contesa erano ben diversi. Sì, diciamo che stavamo in vantaggio 2-0. Potevamo fare pure un terzo gol, però abbiamo gestito bene comunque la gara e l'abbiamo portata in fondo senza subire gol con lo scarto di due, quindi penso che sia una cosa importante.